Sportello Italia. Buongiorno le dodici, ventisette, quindici secondi, Sportello Italia, oggi Paola Nania con voi fino alle tredici, l'informazione economica eh che si occupa insomma di tutti i temi fondamentali, parliamo di manovra, parliamo di oggi eh pensione, pensione integrativa e poi in chiusura le domande dei voi ascoltatori, potete scriverci al tre tre cinque sei nove nove due nove quattro nove oggi eh parliamo di ricette mediche in formato digitale. Se avete dubbi la nostra esperta risponde ehm insomma negli ultimi minuti del programma. Saluto il professor Fabio Fortuna economista ben trovato. Buongiorno. Allora lo diciamo sempre ci aiuta a raccontare l'economia ai volti dell'economia che spesso coincide con quello delle banche, dei mutui, dei tasse, essendo poi Sportello Italia rivolto ai consumatori e ehm ai nostri ascoltatori come consumatori. Eh rispetto all'ABI è stato proprio pubblicato da poco un eh report sull'andamento dei tassi. Cosa possiamo dire professore? Perché è un tema interessante rispetto all'andamento dei mutui. Certo. Buone notizie dall'ABI che avevamo avuto in anteprima sabato con un comunicato stampa e che sono state confermate questa mattina con la pubblicazione del consueto rapporto mensile perché i tassi continuano a diminuire. In particolare cominciamo da un tasso che interessa molto ai cittadini quello sui mutui. Il tasso medio comunicato dall'ABI per i mesi di ottobre è pari al 3,28%. Continua a diminuire. Basta ricordare che a novembre dello scorso anno era al 4,42 quindi è sceso più di un punto percentuale. Stesso discorso per il tasso medio sui pressi delle imprese importanti perché se le imprese possono indebitarsi per produrre per la propria attività a tassi più vantaggiosi ovviamente ne beneficiano. Scende al 4,60 dal 4,90 quindi anche qui c'è un miglioramento sostanziale. Questo è effetto delle riduzioni dei tassi della BCE. Ricordiamo che la BCE il 17 ottobre per la terza volta ridoccate i tassi e attualmente sono scesi allo 0,75. Quindi i tassi stanno migliorando. Significa che è più conveniente prendere un mutuo a tasso fisso? Ma diciamo la scelta è sempre soggettiva, ci sono motivazioni valide sia per il fisso che per il variabile. Certamente in questo momento forse è più consigliabile il tasso fisso perché un mutuo a tasso fisso si può contrarre intorno tra il 2,50 e il 3,10%. Quindi sono scesi parecchio. Scenderanno ancora perché lo diceva Panetta proprio questa mattina in un intervento. L'inflazione ormai si sta riducendo ed è al di sotto in Italia del limite di donato sano del 2% e quindi la politica cosiddetto restrittiva che è stata praticata dalla BCE deve attenuarsi e io credo che il 12 dicembre BCE diminuirà ancora nello 0,25 perché anche l'Europa ha bisogno che i tassi diminuiscano per rilanciare la produttività. Sappiamo quanti problemi in Europa e in Italia ci sono al riguardo. E poi per chiudere un po' questo quadro generale vediamo l'ottica delle banche perché per quanto riguarda i cosiddetti crediti deteriorati, il termine tecnico ma la lingua italiana ci aiuta, sono crediti che le banche hanno concesso e per i quali ci sono difficoltà a recuperare, diminuiscono a 30,9 miliardi. Nel caso di fallimenti per esempio per esplicitare? Beh quelli sono certo nel caso di fallimenti ma oppure di difficoltà del debitore per cui magari si possono recuperare ma ci sono difficoltà se ne recupera una parte insomma del deterioramento è un termine che si utilizza e sono diminuiti. E questo è un buon segno. Per chiudere la parte banche poi facciamo proprio una capatina dalle parti della manovra che raccontiamo spesso e è arrivata una dichiarazione da la Banca Centrale Europea in realtà da la vigilanza della BCE che ha detto la sorveglianza della Banca Centrale Europea che esorta le banche, questa è notizia di ieri, a prepararsi agli stravolgimenti geopolitici invita ogni banca vigilata a prepararsi a gestire il maggior rischio. Insomma un'allerta rispetto a questioni geopolitiche che in realtà ormai purtroppo ci accompagnano da anni però questa arriva dalla Banca Centrale. Come mai professore? Beh la Banca Centrale è sempre prudente quindi invita le banche a stare attenti quando concedono il fido, quando concedono il credito perché poi c'è il problema che dicevamo prima dei crediti rinorati. È evidente che se le crisi economiche si accentuano la possibilità che i crediti non vadano a buon fine cioè che le banche non li vedano tornare indietro aumenta. È un più un atto prudenziale perché in questo momento non ci sono elementi di preoccupazione, le banche vanno a buon bene. Però è sempre bene che la vigilanza, in particolare le nostre banche vanno bene quindi sono solide. Il nostro sistema bancario ha recuperato quelle situazioni di difficoltà di alcuni anni fa. Allora un minuto e mezzo per fare punto sulla manovra. La stiamo raccontando ormai di giorno in giorno. L'orizzonte per l'approvazione è metà dicembre, probabilmente prima della fine dell'anno. Che punto siamo rispetto soprattutto agli emendamenti che sono poi quegli elementi che possono modificare la manovra in alcuni punti? Siamo alla vigilia del momento in cui si chiarirà quali sono gli emendamenti che la Commissione del bilancio ha selezionato perché in partenza erano più di 4.500 gli emendamenti. 1.300 circa sono stati ricarati inammissibili quindi non si è andato avanti. Ne rimangono tantissimi. La scrematura dovrebbe portarli a 600. Poi bisognerà sceglierli a seconda dell'importanza in virtù dei famosi 120 milioni che è la disponibilità extra rispetto a quella iniziale della legge di bilancio oppure spostando qualche somma da una posta all'altra del bilancio. Non ci sono altre possibilità ma si affaccia all'orizzonte un nuovo flusso di risorse potenziale perché è stato riaperto il concordato e quindi dal 3 al 12 dicembre chi vuole potrà ancora accedere al concordato fiscale e il ricavato potrebbe essere utilizzato per fare qualcosa in più. Gli emendamenti ce ne sono tantissimi ne abbiamo anche parlato. Centinaia sì. Allora professore io la ringrazio però prima rispondiamo a una cosa che spesso diciamo qui a Sportell'Italia sul tema inflazione. Ersilia una nostra ascoltatrice ti dice a me non risulta che l'inflazione sia scesa andate a fare la spesa per vedere. È vero ha ragione perché quando lei va a fare la spesa trova dei prezzi che sono aumentati poco recentemente ma che sono aumentati moltissimo nel corso dell'anno e mezzo precedenti e quei prezzi che abbiamo visto non li vedremo più anche se l'inflazione oggi ha ritmi accettabili. L'inflazione continua a crescere di poco ma quello che si è accumulato come pregresso rimane questo è il tema diciamo forse che è questo il tema da sottolineare. E poi in particolare sul carrello della spesa a cui fa riferimento la nostra ascoltatrice c'è un incremento nell'ultimo mese è raddoppiato più 2,2% rispetto al più 1,1% quindi si soffre per questo perché i prezzi non si rivedranno più. Grazie grazie professor Fabio Fortuna e alla prossima.